Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter, nuova recensione molto natalizia, ma prima di cominciare vi voglio ricordare che, come sempre, utilizzando il mio codice sconto 7Potter su Pampling, potrete usufruire del 20% di sconto su tutto il loro catalogo e lo sconto è accumulabile con tutte le offerte in corso. La felpa che indosso oggi a tema Harry Potter è naturalmente di Pampling, la conoscete ormai benissimo, ma ne trovate tantissime altre sia a tema Harry Potter ma anche di tantissimi altri fandom. Ragazzi, naturalmente tutti i link utili sono in infobox e adesso cominciamo a parlare del nuovissimo volume che mi è stato gentilmente inviato da Panini Comics e che non vedo l'ora di sfogliare con voi. Ragazzi, Panini Comics mi ha inviato un nuovo taccuino. Come saprete esistono diverse monografie, diversi volumi dedicati al mondo di Harry Potter editi da Panini e in questo caso si tratta della collana dei taccuini. Io vi ho già recensito tutti quelli precedenti e naturalmente per chi se li fosse persi, ragazzi, qui ci sono le schede, trovate tutti i libri che ho recensito. E il primo di tutti fu questo qui dedicato a Newt Scamander. Ogni taccuino è ricco di allegati, sono molto molto belli, sono dei volumi piccolini ma molto molto carini per come sono realizzati all'interno, sia graficamente, sia per le copertine, sia per tutti i piccoli gadget allegati all'interno, quindi ve li consiglio e vi consiglio di recuperare i video. E dopo questo qui di Newt Scamander ne sono arrivati altri come ad esempio questo qui delle arti oscure, dove all'interno c'erano sia allegati di Harry Potter che di Animali Fantastici. Poi questo qui dedicato ad Hogwarts, molto molto bello, quest'altro dedicato a Diagonalley e poi un altro ancora, l'ultimo che era questo qui dedicato alle formule e agli incantesimi. E adesso che siamo nel pieno delle festività natalizie, ecco che Panini lancia questo qui, questo nuovo taccuino dedicato al Natale ad Hogwarts. Io l'ho già sfogliato velocemente, gli ho dato un'occhiata perché l'ho ricevuto un po' di giorni fa e ragazzi c'è un allegato che è super super fighissimo e che sicuramente tutti voi vorreste avere. È un allegato che si era già visto in uno dei volumi precedenti di Harry Potter, sempre di Panini, ma che in questo caso è forse un po' più semplice da recuperare perché quello era un libro un po' più impegnativo. Ma ragazzi, io direi di dare un bel taglio alle ciance e di cambiare subito inquadratura e di andarlo a sfogliare assieme. Ed eccoci qui con il nostro volume dedicato al Natale a Hogwarts e intanto io mi soffermerei sulla copertina che è davvero bellissima. Abbiamo il portone della Sala Grande aperto con all'interno la Sala Grande imbandita e allestita a tema Ballo del Ceppo, con le coppie dei campioni che ballano al centro. È davvero molto molto bella questa copertina e poi sul retro abbiamo alcune scene natalizie tratte dai film di Harry Potter e ragazzi, naturalmente adesso andiamo a guardare all'interno. Ed ecco che troviamo subito il primo allegato che adesso andiamo a guardare assieme, andiamo ad aprirlo e troviamo questo artwork bellissimo dei ragazzi che stanno lasciando Hogwarts per andare a trascorrere le vacanze di Natale con le proprie famiglie. Questa è una scena tratta dal primo film da Harry Potter e la Camera dei Segreti. Molto molto bella, sì, la Camera dei Segreti. Harry Potter è la pietra filosofale, naturalmente. E poi ecco che andiamo a trovare questa che è un'altra bella vista della Sala Grande allestita per il Ballo del Ceppo e poi passiamo al sommario. Molto bella anche questa illustrazione di Hogsmeade tutta innevata. Ed ecco qui che abbiamo i vari capitoli. Ne abbiamo uno dedicato a Hogwarts e la neve, uno agli addobbi di Hogwarts, i canti di Natale, gli alberi di Natale, i regali, i regali magici, le avventure natalizie, il torneo tre maghi e il Ballo del Ceppo, tutte le varie categorie dedicate al Ballo del Ceppo, le storie d'amore sotto l'albero, la festa di Natale del Luma Club, gli avventi da sera per la festa del Luma Club, Natale ad Hogsmeade e poi abbiamo Natale alla Tana e Natale a Godric Solo. Come vedete c'è tantissimo Natale all'interno della saga. Abbiamo un'introduzione e poi ecco qui che abbiamo le prime scene, le prime cartoline di Natale tratte dai film di Harry Potter. Molto molto bella anche questa, sempre tratta dal primo film. Devo dire che ormai Harry Potter, la pietra filosofale, è praticamente diventato un film natalizio alla pari di Mammo per Solerio o Una poltrona per Due, ad esempio. E poi ecco qui gli addobbi. Qui abbiamo un primo allegato, abbiamo questa pagina di adesivi, tutti a tema natalizio. Questi adesivi magari si possono attaccare in dei pezzetti di plexiglass o di legno e creare delle belle decorazioni da appendere all'albero. Poi abbiamo anche i canti di Natale con il testo, abbiamo anche gli alberi di Natale che sono sempre presenti nella sala grande durante il pietro natalizio. Io voglio andare tantissimo al Warner Bros Studio Tour durante il periodo di Natale perché ci sono già stato una volta in estate, quindi dove il tema era generico, quello là dell'anno tradizionale scolastico. Poi ci sono andato anche una volta durante Halloween, dove la sala grande era tutta addobbata a tema Halloween con le zucchie. E invece mi manca quella a tema natalizio con gli alberi di Natale in sala grande. Dei miei amici ci sono stati, mi hanno detto che è bellissima, quindi la prossima volta voglio proprio andarci a dicembre, quindi speriamo bene. Poi ecco che qui abbiamo invece i regali natalizi e abbiamo questi piccoli schemi da staccare per realizzare ad esempio delle sciarpe o dei maglioni con i nomi delle case e da questa parte abbiamo invece le fantasie proprio dedicate alle case di Hogwarts. Io l'ho direttamente staccato dalla pagina ma lo andrò a riattaccare. E poi ecco che qui abbiamo altri pattern schemi natalizi, questa è una sorta di cartolina natalizia a tema Quidditch. E poi vediamo ancora regali di Natale, avventure natalizie, quindi ad esempio la pozione polisucco è avvenuta proprio sotto le feste di Natale. E poi qui ecco che abbiamo questo allegato bellissimo. Questo io lo avevo già ma ragazzi è super super bello. Si tratta del programma del ballo del ceppo ed è super super bello da mettere esposto magari nella collezione. Davvero bellissimo. E poi appunto anche il ballo del ceppo dove ci viene raccontato come hanno realizzato le varie decorazioni, i vari addobbi, tutti i trucchi usati durante le scene. Questo è un allegato che mi ha lasciato a bocca aperta. È uno schizzo dell'abito di Ermione ed è realizzato su questa carta velina semitrasparente e sembra proprio scritto a penna. Questo è un bozzetto originale che è davvero molto molto bello. Qui abbiamo anche un volantino del ballo del ceppo con la musica. Questo è un catalogo dedicato agli abiti indossati durante il ballo. È proprio bello questo libro perché hanno tirato fuori questo tema del Natale che magari è passato un po' in sordina durante la visione dei film ma che tutto assieme è davvero molto interessante. Il Natale è praticamente presente in ogni film. Qui abbiamo la festa di Natale del Luma Club, quindi parliamo di Harry Potter e il principe mezzosangue. E poi abbiamo anche gli abiti. Hogsmeade al Natale che fa tanto Natale. Hogsmeade, naturalmente i dolci di Mielandia. Abbiamo questa pagina con tutti gli adesivi dei vari dolci. Quindi per chi si cimenta nella realizzazione magari di piccoli oggettini da aggiungere alla collezione, piccole scatole di caramelle, di dolciumi, può tranquillamente andare a prendere le etichette qui e attaccarle e realizzare delle repliche fatte a mano. Poi Grimwood Place sempre a Natale, il Natale alla Tana, come dimenticarlo. L'ultimo film Natale a Godric Solo. E' davvero, ragazzi, completissimo. Abbiamo tutte le scene natalizie presenti nei film. E poi qui abbiamo quest'altro artwork con invece la sala grande a tema natalizio. Che richiamo un po' questa qui che è a tema ballo del ceppo. E questa sempre col portone aperto e poi le tavole e l'albero di Natale in fondo alla sala. Davvero molto molto bello. Ed eccomi di nuovo qui. Ragazzi, cosa penso di questo volume? Io devo dire che è molto molto carino. E questo volume mi ha fatto prendere coscienza del fatto che all'interno dei film di Harry Potter, così come nei libri, beh, il Natale è molto molto importante, è sempre presente. E devo dire che vedendo questo volume, sfogliando questo volume assieme a voi, mi sono davvero reso conto di quante cose ci sono dedicate al Natale all'interno della saga. E questo libro raccoglie tutte. Mi piace tantissimo il ballo del ceppo, che ormai è sinonimo di Natale per tutti. addirittura quest'anno il calendario Lego, che vedete alle mie spalle, quello lì di Harry Potter, era appunto dedicato al Natale, al Vallo del Ceppo. Per chi si fosse perso le storie, le ho messe in evidenza con tutte e 24 le caselline, per chi le volesse recuperare, e quindi ormai Harry Potter è sinonimo di Natale. E questi allegati sono molto molto carini. Mi piace naturalmente tantissimo il biglietto del Vallo del Ceppo, il cartoncino del Vallo del Ceppo, che io avevo già trovato in passato all'interno del volume, dalla pagina allo schermo, anzi no, era all'interno della magia del film. La magia del film, che era ricco di allegati, e quello era assolutamente uno dei miei preferiti. E sono contentissimo di averlo trovato anche qui, perché probabilmente andrò a togliere questo dall'interno del libro, del volume, e lo metterò esposto nella mia collezione. Ragazzi, molto molto bello, un regalo assolutamente super natalizio, magari adesso siamo già oltre Natale, ma se vi è rimasto qualche regalino arretrato, assolutamente da prendere, o da autoregalarsi per completare la collezione. Io vi lascio il link a questo volume sotto in info box, ringrazio tantissimo Panini per avermi fornito questa copia, e ragazzi, vi spoilerò già che nel prossimo video avremo un altro volume sempre di Panini, e abbiamo finalmente il manuale delle scope, quindi ragazzi, quello super super fighissimo l'ho già sfogliato, e ve lo mostrerò a breve nel prossimo video. Quindi, mi raccomando, qualora non posta iscritti, iscrivetevi al canale, commentate, attivate la campanella, fatemi sapere cosa ne pensate di questo volume, e ragazzi, seguitemi su Instagram, antonio.seria, perché lì faccio sempre delle storie, pubblico delle anteprime, i pacchi che mi arrivano, quindi diverse cose che magari non porto neanche su YouTube. Bene, ragazzi, detto questo, io do un bel taglio alle ciance, e vi do appuntamento apprestissimo, davvero apprestissimo, con il volume dedicato alle scope, e quindi, ragazzi, vi saluto e ci vediamo davvero davvero presto. Ciao!